C'è pressione su di lui, occhio alla botta e il pallone finisce il gol. Questo gol dovrebbe consentire di gestire la gara, possono accontentarsi ovviamente anche del pari per ottenere la promozione. Se fossi in loro, eviterei di arretrare, per difendere vantaggi, attaccherei per cercare di chiudere la partita. Grazie.